piano piano si chiede le gambe lì un po' più avanti il fenomeno naturale sta usati dalla luce del sole in quanto questa parete qui è sospita, non gioca al fondo il sole passa sotto la roccia e si riflette sulla sabbia bianca 60 metri lunga e 20 profonda già 2000 anni fa era la piscina del secondo imperatore di Roma di Legre a cui mi intanto è mio piano piano e io sono capito a cui mi intanto è mio piano prendere un tipo di sperimentazione chiamo tutti se preferite il video like, commenta e subscribe You can also watch one of these other videos, or visit our website www.tripillaret.com See you in the next videos! Ciao a tutti! Se ti è piaciuto questo video, metti un like, iscriviti al nostro canale, o anche guardare uno di questi altri video, o visitare il nostro sito web www.tripillaret.it Ciao, al prossimo video!